Ricordate quello che è successo ad agosto a Londra? Dopo i disordini a Tottenham, le persone autonomamente sono scese in piazza con delle scope e sono andate a pulire il centro della città che era stato devastato. Brumo Harmi l'hanno chiamato l'Armata delle Scope. Volete sapere perché? E perché succede anche ad Arezzo? Venite con noi. Insomma, interrompiamo Meri mentre con una sommica del partito legicale, una volontaria, si sta occupando di cercare di ripulire da un problema piuttosto grave quest'area di campo di Marte. In effetti quest'area è tenuta in condizioni un po' disumane, diciamo, perché in questa zona sono presenti siringhe, ci troviamo in pressimità dei giardini, quindi giardini frequentati da bambini, i bambini che giocano e quindi si trovano a dover aver contatto con queste siringhe. Qui siamo in presenza di siringhe, le siringhe abbandonate da ogni parte, qui sono buttate dentro delle grade, ma le troviamo anche nei giardini stessi. Ricordiamolo, al di là del degrado, al di là della sporcizia, purtroppo queste siringhe che sono utilizzate da persone che fanno uso di stupefacenti, sono degli stupefacenti veicoli per la trasmissione di malattie molto gravi, dalle quali non si guarisce vari tipi di epatite e anche la sindrome dell'immunodeficienza, ovvero l'AIDS. Certo, quindi una persona grande può sapere a cosa va incontro trovandosi di fronte a queste siringhe. I bambini no, la curiosità dei bambini porta a toccare quello che trovano in terra e purtroppo a volte sono capitati casi di bambini che le hanno prese in mano, quindi il rischio di malattie di contagio purtroppo è una realtà molto cruda a cui dobbiamo prendere atto. Insomma, l'ideale ovviamente sarebbe di utilizzare i contenitori che qua intorno ci sono per buttare quello che non serve, anche le siringhe quando si sono usate. E ancora una volta però balza all'occhio una carenza di educazione. Certo, è questo quello che dà da pensare, una carenza di educazione perché quando uno usa queste cose dovrebbe avere il buon senso di utilizzare i contenitori, di utilizzare i bidoni ma non di abbandonarli perché ognuno è libero della propria vita di farne ciò che vuole. Però dobbiamo renderci conto che buttandole così mettiamo a repentaglio anche la vita di altri e soprattutto dei bambini. Quindi è una cattiva educazione, cioè il gettare questi oggetti così dove capita. Ancora una volta dobbiamo ribadirlo, Mary e le sue amiche fanno qualcosa di veramente meritorio perché si occupano per quanto possibile di dare una mano a recuperare delle aree che come avete visto per parte o in toto sono degradate. Però è chiaro che non possono fare tutto da sole e non tutto può essere delegato alla loro buona volontà. Noi quello che possiamo fare è segnalarlo e cercare di poter dare una mano, però in questo caso ci troviamo impotenti perché sono buttate dentro delle grate e noi non possiamo accedere per pulire. Siamo di fronte a un palazzo e a lato abbiamo i giardini, quindi questo fa riflettere. Fa riflettere molto, come fa riflettere il fatto che a volte forse si corrono anche dei rischi facendo determinati tipi di azioni meritorie, è così? Anche questo, c'è il grande rischio e la gente non pensa a questo. Bisogna riflettere, valutare a cosa vanno incontro i giovani che utilizzano queste siringhe e a cosa mettono di fronte gli altri che passano da queste zone. Cioè il rischio a cui vanno incontro le persone che passano. Cioè ognuno della propria vita ne può fare ciò che vuole, però avere il buon senso ed educazione di... La cosa principale sarebbe quella di non far uso di queste sostanze perché c'è la cosa che viene da pensare. Però purtroppo ci sono giovani che ne fanno uso e dovrebbero avere questo buon senso. Uno dei limiti, ma in questo caso dei vantaggi della televisione, è che voi non potete riuscire a sentire l'odore che in questo momento stiamo sentendo noi. Mary ci ha condotto in un altro buco nero di Arezzo. Dove siamo e che cosa abbiamo? Allora siamo in Via Provenza, accanto all'asilo che c'è in via Marcantonio Cesti. È una zona dove ci sono stati due morti in un furgoncino qualche anno fa, ma la situazione è sempre lo stesso. Siringhe lasciate abbandonate dappertutto. Il piazzale è usato dai genitori per accompagnare i bambini all'asilo. Quindi questa mi sembra una situazione alquanto squallida. Dà da pensare, viene da riflettere. Sì, insomma, un vero squallore in centro ad Arezzo. Speriamo veramente che qualcuno possa fare qualche cosa.